La mediazione come strumento di gestione e risoluzione dei conflitti a scuola, coinvolgendo gli studenti in prima persona e aiutandoli a sviluppare la comunicazione verbale e non verbale. E l'obiettivo del seminario In Scontro, ospitato nell'Aula Magna dell'Istituto Amedeo Avogadro di Torino e organizzato dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Piemonte, in collaborazione con l'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, Sezione Piemonte-Valle d'Aosta e l'Associazione Resoluzia. Si tratta di insegnare ai nostri figli e ai nostri ragazzi a litigare bene. Il litigio di per sé non è negativo, diventa negativo quando il litigio diventa violenza. Occorre pertanto aiutare i nostri ragazzi a capire che le diversità sono ricchezza, che il punto di vista dell'altro deve essere sempre rispettato e che soprattutto non si può, non si deve infierire sui più deboli, ma semmai aiutarli e dare loro una mano. Cosa fa la scuola? La scuola si rivolge a personalità e professionalità esterne, li porta all'interno, il compito forse della scuola è anche quello di aprirsi a soluzioni nuove di problemi che ha dentro di sé. Quello che noi abbiamo notato come organismo e come professionisti è che per poter dare una chance di sviluppo alla mediazione è necessario creare la cultura della mediazione e abbiamo deciso così di partire proprio dai giovani, sviluppando quella che viene definita una mediazione tra pari, quindi forme di mediazione dei conflitti che nascono all'interno delle classi, quindi tra gli studenti e che vengono gestite direttamente dagli studenti. La mediazione tra pari, già diffusa negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, offre grandi possibilità di intervento e di formazione dei giovani, insegnando loro ad aggredire i problemi e non le persone e contribuendo a prevenire le discriminazioni e il fenomeno della dispersione scolastica che vede l'Italia maglia nera tra i paesi dell'Unione Europea.